Ciao a tutti, benvenuti in un'altra MTGP di Magies of Lotus. Oggi parliamo di una combo che magari perché gioca Commander da tanto e non è una novità, per altri magari è qualcosa di nuovo perché non l'avete mai visto, che è la combo con Teferi più Knowledge Pool. Le trovate entrambe qua di fianco, ma spiegamolo in un attimo. Teferi grosso è la prima versione che sta stampata ed è un 3-4 con Flash, che da Flash le nostre altre creature che non sono sul campo di battaglia. Poi abbiamo la seconda abilità che è molto importante, la più forte, che è l'avversario non può lanciare magie oltre la velocità sorcery, quindi deve castare tutto sorcery. Perché scomba con la Knowledge Pool, che blocca l'avversario da castare qualsiasi spell? Perché la Knowledge Pool entra, dice, entrambi esiliamo dal mazzo delle carte, insomma le prime tre, ma quello il meno, non è importante, ma la parte importante è la seconda trigger, che dice, ogni qualvolta qualcuno lancia una spell, la esilia, e può lanciare un'altra spell che è stata esiliata in precedenza con la Knowledge Pool. Però, per la regola imposta da Teferi, cioè lanciare la sorcery, per lanciare la sorcery bisogna far sì che lo stack sia vuoto, se non può lanciare la sorcery, perché proprio nelle regole è, per lanciare la sorcery lo stack deve essere vuoto, per lanciare la velocità sorcery. Quindi, non ci sarà mai un momento che l'avversario potrà lanciare le spell a velocità sorcery, perché lo stack non sarà mai vuoto, la pila non sarà mai vuota, perché ci sarà l'abilità stessa da Knowledge Pool che sta risolvendo e provando a lanciare un'altra spell, ma non può farlo, perché c'è Teferi che lo impedisce, break a punto, velocità sorcery. Questa è una combo un po' vecchia, ma in alcuni mazzi si può ancora giocare ed è tutto sommato forte. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e alla prossima.